Eccoci qua, buonasera, il telegiornale parte da quello che è successo questa notte, l'esito del volto alle regionali Umbre, ovviamente un vero e proprio K.O. per le forze della maggioranza di governo, una vittoria nettissima del centrodestra e soprattutto di quella parte del centrodestra, soprattutto Salvini, ma anche Giorgia Meloni che è di più chiara impronta sovranista, mentre Forza Italia diventa più stabilmente la terza forza della coalizione di centrodestra, ma soprattutto e ovviamente l'attenzione è appunto sulla batosta per le forze di maggioranza, il Movimento 5 Stelle che arriva molto sotto il 10% e il Partito Democratico che trova evidentemente che quell'asse col Movimento nella sua somma è ben sotto al risultato della sola Lega. Salvini il vincitore assoluto, ma c'è anche qualcos'altro, come è chiaro. Di Maio subito dice che questo tipo di alleanze non può andare avanti, non è riproponibile e c'è qualcosa che non quadra nell'azione di governo. Bisogna mettersi bene d'accordo su temi e modalità dell'azione, se no si rischia a tutti, questo è evidente dal loro punto di vista, anche perché tra 90 giorni esatti, il 26 di gennaio, si vota in Emilia-Romagna. E se l'Umbria, come ha argomentato il Premier Conte, rappresenta un'entità certo importante, una regione, ma riguarda meno del 2% degli elettori italiani, per l'Emilia il discorso è diverso. Quella sarà evidentemente una partita decisiva per il futuro dell'alleanza giallorossa. Ma già che si parla di Conte, ovviamente c'è l'inchiesta del Financial Times, il più importante quotidiano finanziario europeo, che ha indicato i rischi di un possibile conflitto di interessi per il nostro Premier, per una vicenda. Vedremo di capirci qualcosa. Palazzo Chigi dice che non c'è assolutamente nulla di poco chiaro o tanto meno di irregolare. Ma ci sono molti altri fatti, soprattutto a livello internazionale, mentre si conferma quello che vi abbiamo detto ieri sera, ovvero che la Gran Bretagna ha ottenuto un rinvio di tre mesi del termine della Brexit, concordata nei contenuti con l'Europa. Quindi si può arrivare fino al 31 di gennaio, ma si può concludere anche prima. Ma a questo punto, ed è in materia dei prossimi minuti, c'è un voto cruciale, ancora una volta la Camera dei Comuni a Westminster, a Londra. C'è invece ancora qualcosa da chiarire sul blitz americano che ha portato all'eliminazione del califo, del capo dell'Isis al Baghdadi. Polemiche che inducono Trump a dire che nelle prossime ore disporrò che vengano pubblicati stralci della ripresa video dell'attacco che è stato compiuto. Ma insieme alle tante storie di cui parleremo, ancora il delitto di Roma, c'è anche la vicenda dell'odio online, che si è rivolto, come si sa, nei giorni scorsi, anzi, si rivolge sistematicamente contro la senatrice a vita Liliana Segre. Proprio lei ne ha parlato oggi, sentiremo in che termine. Poi è lunedì e c'è l'appuntamento con Milena Gabanelli e il suo Data Room. Questo e tanto altro. 30 secondi di titoli. Il trionfo del centrodestra, la trazione sovranista in Umbria con Donatella Tesei che stacca di 20 punti. Lo sfidante Bianconi spinge Salvini e Meloni all'attacco del governo. Il risultato è un avviso di sfratto perché è minoranza, dice il leader della Lega, che guarda già all'Emilia Romagna e alla Calabria tra tre mesi. Giorgia Meloni, che ha doppiato i voti di Berlusconi e che in Umbria con Fratelli d'Italia il terzo partito, non considera il risultato di ieri un test locale e invita Conte a dimettersi. Il Premier però risponde, è solo un test regionale, ma chiede più spirito di squadra. Il voto Umbro però ha aperto le riflessioni a maggioranza. Di Maglio dopo la debacle del movimento sceso sotto l'8%, ha dichiarato fallito l'esperimento dell'alleanza col PD. Tiene lontani i nostri elettori, dice il Premier, perché l'azione di governo sia più innovativa e incisiva. Per Zingaretti stare insieme ha senso solo se c'è un sentire comune. Renzi critica tempi e modi dell'alleanza in Umbria. E lo stesso Premier Conte respinge l'accusa di conflitto di interesse che è stata sollevata e messa per iscritto dal più autorevole quotidiano finanziario d'Europa, il Financial Times. Il Premier specifica che fu chiamato a dare un parere legale nella vicenda che riguarda il finanziere Mincione e la scalata della società Fiber4 a Retelit, quando ancora non esisteva neanche la lontana ipotesi di diventare Presidente del Consiglio. E quando, diversi mesi dopo, il governo giallo-verde votò la Golden Power, da lui consigliata, era al G7 in Canada. In ogni caso, Conte spiegò tutto all'antitrust che non rilevò irregolarità. Il raid americano che ha portato all'uccisione di al-Baghdadi fa discutere in particolare per la ricostruzione fatta da Donald Trump nell'annunciare la morte del califo, ricca di dettagli che, secondo i critici, non sarebbero stati a conoscenza del Presidente degli Stati Uniti. che replica, potrei diffondere alcune parti del video della cattura di un uomo malato e depravato che doveva essere ucciso, non da me, ma dal mio predecessore. Centinaia di messaggi incitanti all'odio razziale sono quelli che arrivano quotidianamente attraverso i social all'indirizzo di Liliana Segre, l'89enne senatrice a vita, sopravvissuta a Auschwitz, testimone della Shoah. Sono persone per cui avere pena e che vanno curate, il commento della senatrice. A sua firma, tra gli altri, la mozione discussa domani in Senato per la creazione di una commissione straordinaria per il contrasto del razzismo, dell'intolleranza, dell'antisemitismo. Il 9 novembre del 1989 nasceva la Germania Unita, un evento storico che ha notevolmente influito sull'economia del Paese. Centinaia di miliardi investiti per allineare le due realtà, la Germania federale e la Germania dell'Es, Sfilli Comunista, non solo le due realtà, non solo dalla Germania ma da tutto il mondo. Dopo 30 anni si può parlare di una Germania realmente unita economicamente, socialmente e politicamente? Ne parla il Data Room di Milena Gabarelli. Allora vi dico subito, buonasera ancora, che pochi secondi fa, mentre andavano in onda i nostri titoli, la Camera dei Comuni britannica ha respinto la mozione del Premier Boris Johnson sul scioglimento della Camera dei Comuni stesso e sulle elezioni il 12 di dicembre. Sta parlando in questo momento, lo vediamo, Jeremy Corbyn, il leader dell'opposizione, il segretario ovviamente del partito laborista. E quindi il governo non ottiene quel quorum di due terzi che sarebbe stato necessario per avere subito le snap elections, ma a questo punto c'è la strada della via ordinaria, diciamo. Per legge ordinaria potrebbe comunque ottenere il voto anticipato. Ecco il famoso speaker, ormai il famoso speaker della Camera dei Comuni. Era giusto dare in tempo reale questa notizia, ma si sa che da noi di altre elezioni si parla, quelle che si sono svolte ieri in una delle nostre regioni, l'Umbria. Era un'elezione attesa, perché? Perché era il primo banco di prova per le forze politiche dopo quello che è successo quest'estate, dopo il cambiamento dal governo giallo-verde e a quello giallo-rosso con tutto quello che è successo. E che è inutile ribadire, perché lo sappiamo tutti. Come sono andate le elezioni? È facile dirlo in poche parole, vedendo due cartelli. Quello sull'elezione vera e propria, il governatore della regione Umbria è da questa notte Donatella Tesei, che ha ottenuto con il centro-destra il 57-55% dei voti, battendo nettamente, esattamente, di 20 punti Vincenzo Bianconi. Il candidato comune del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. L'esito è lampante, l'esito è evidente, ma ancora di più se vediamo come sono andati le forze politiche nazionali in questa elezione. La Lega 36-95%, Fratelli d'Italia 10-40%, Forza Italia 5-50% per quanto riguarda il centro-destra. E poi PD 22-33, Movimento 5 Stelle 7-41 per quanto riguarda l'alleanza che esprimeva la candidatura di Bianconi. È evidente che ci sono dei vincitori e dei vinti, e che vincitori e per quanto, e che vinti e per quanto, soprattutto quel 7% del Movimento 5 Stelle è stato uno shock per il Movimento stesso. E sull'alleanza tutto questo si è riflettuto. Partiamo dai vincitori e poi andiamo ai vinti. È un voto degli Umbri per gli Umbri, ma sicuramente è un preavviso di sfratto a chi è minoranza del Paese e occupa i ministeri e i palazzi del potere. Punta dritto contro il Conte Bis, la lettura salviniana autografa della vittoria storica ribadisce il leader leghista nell'Umbria, che fu per 50 anni rossa e che nella notte ha svoltato per la prima volta a destra. Destra-destra vista la performance di Giorgia Meloni, che ha doppiato i voti di Silvio Berlusconi e che infatti, con autonoma conferenza stampa, rincara la dose, chiedendo direttamente le dimissioni di Conte. Sono i numeri schiaccianti, 20 punti di vantaggio della senatrice del Carroccio Tesei sull'avversario giallorosso Vincenzo Bianconi ad incoraggiare l'affondo e a proiettarlo nella strategia leghista già oltre. Sul prossimo obiettivo l'Emilia, che sembrava irraggiungibile, che invece, grazie a quel risultato, rientra nell'orizzonte della possibilità. E si capisce del resto dalle paure specularmente crescenti nel PD, che in Emilia ha casa madre e madre di tutte le battaglie. Tutto, insomma, spinge verso un'opposizione più incisiva e la prossima campagna elettorale di cui Salvini ha guadagnato leadership sul campo dopo la scivolata estiva che frappapete e strappo fuori tempo con i Cinque Stelle lo ha portato all'opposizione. Più di Di Maio, di cui Salvini fa mostra di non curarsi, più di Renzi, meno di 24 ore dopo il voto. Nel mirino c'è il Premier, cui Salvini non perdona il giacchius al Senato del 20 agosto, gli inviti a riferire in Parlamento sul caso Savoini e i rapporti con la Russia, le elezioni di grammatica istituzionale. E infatti eccolo, giocare duro, con analogo invito a riferire in Parlamento sul presunto conflitto di interessi evocato dal Financial Times e di cui si parla in altro servizio. Se un giornale autorevole come il Financial Times ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il Presidente del Consiglio corra in Parlamento a riferire. Se non lo ritenesse di fare lui, già oggi stesso glielo chiederemo noi. Il Quirinale deve riflettere sui risultati dell'Umbria, di stacco fra Paese Reale e Palazzo, la carta retorica utilizzata da Salvini. Meloni sceglie un pressing ancora più intenso. È un governo in viso, in viso al popolo italiano e non so quali altri segnali il popolo italiano dovrebbe mandare. Probabilmente anche il Presidente della Repubblica potrebbe valutare, insomma, di tenere in considerazione il nuovo scenario. Eppure, dietro pressing e attacchi e richiesta di dimissioni del Governo, c'è la consapevolezza che nulla succederà a breve, che dovrà passare la legge di bilancio, che lui, Salvini, percepito come minaccia, resterà il collante di una maggioranza rissosa e infragilita, ma senza troppi spazi di manovre, riluttante a tornare al voto, perfino in caso di una nuova crisi, come già oggi si diceva nelle file del PD. Di qui l'attacco a Conte, nel mirino di Renzi e di Di Maio, se dovesse indebolirsi, potrebbe essere lì lo spiraglio per una prova di forza. Tutto prematuro, ma tutto già in campo, nella notte e nel giorno della vittoria. Amara a destra solo per il partito di Berlusconi, Forza Italia, schiacciato fra Salvini e Meloni e corteggiati in Parlamento da Renzi, accusa l'eterogeneità dei giallorossi. E aspetta. Ma oggi l'ex Premier si iscrive alla lista dei vincitori. La nostra alleanza è il futuro dell'Italia, dice Berlusconi, e ha il diritto, dovere, di governare il Paese. E c'è stato nelle scorse ore un colloquio telefonico tra Conte e Zingaretti. Evidentemente nell'area del governo e della maggioranza si cerca di porre riparo all'indubbio colpo subito con il voto in Umbria. Un colpo che riguarda soprattutto i Cinque Stelle. Abbiamo bisogno, questo sì, di maggior spirito di squadra. Dobbiamo rafforzare la coesione. Il giorno dopo la pesante sconfitta in Umbria, il Presidente del Consiglio Conte prova a tenere insieme i cocci di una squadra sull'orlo di una crisi di nervi. 20 punti sotto è un risultato pesantissimo che va oltre le peggiori aspettative. C'è tempo per riflettere senza arrivare a conclusioni affrettate, aggiunge, però, il Premier consapevole che la sua maggioranza è appesa a un filo, molto sottile. In difficoltà si trova Luigi Di Maio alle prese con un malcontento interno che arriva a mettere in discussione non solo l'alleanza con il Partito Democratico, ma anche il suo ruolo. Il 7,4% incassato in Umbria spedisce sottoterra ogni possibilità di replica del patto civico. Da Buffagni a Lezzi fino a Di Stefano e Corrao il coro è compatto. Di Maio finisce sotto accusa però per aver deciso da solo. Principale accusa che il capo del Movimento prova a respingere. Domani incontra i rappresentanti di Calabria ed Emilia per concordare la linea in vista delle prossime amministrative. Quello in Umbria è stato un esperimento, sono dieci anni che ce lo chiedevano per non rimanere isolati visto come è andata è un esperimento da non ripetere la sua spiegazione. Di Maio non mette in discussione la tenuta del governo però per andare avanti agli alleati chiede lealtà. Non possiamo discutere sempre non si torna indietro per esempio su quota 100. Allora per noi era meglio il contratto di governo con la Lega e il messaggio. Siamo quelli della terza via l'indicazione vaga. In Umbria abbiamo perso ammette anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti pronto però a distinguere tra sconfitta e sconfitta. se quella dell'alleato di governo è una disfatta anche il PD in Umbria non ha perso bene visto che la sinistra perde una delle sue ultime roccaforti. Il 22-3 dopo una scissione rispetto al voto europeo quando eravamo in coalizione con altre forze vuol dire però di aver tenuto prova a rilanciare le ragioni del suo partito. Pronto Zingaretti a chiarire agli alleati tutti 5 Stelle ma anche Renziani che stare insieme per forza non sta scritto da nessuna parte. L'alleanza di governo ha senso solo ed esclusivamente se vive in un comune sentire delle forze politiche che ne fanno parte altrimenti la sua esistenza inutile sarà meglio trarne le conseguenze scrive su Facebook. Molti big da Marcucci a Orfini chiedono di archiviare l'esperimento Umbro ma il capo delegazione al governo Franceschini invita ad insistere. L'onda di destra si ferma con il buon governo e con l'allargamento e l'apertura delle alleanze non certo ridividendoci. Il governo non rischia per noi le elezioni si terranno nel 2023 scrive Matteo Renzi che il giorno dopo il voto non ci sta ad essere indicato tra i responsabili della sconfitta per non essersi schierato in sostegno del candidato Bianconi. È stato un errore allearsi in fretta e furia senza un'idea condivisa tra 5 Stelle e PD e non ho capito la genialata di fare una foto di gruppo all'ultimo minuto penso che il governo debba preoccuparsi solo di governare e di cercare di farlo bene noi stiamo dando una mano e continueremo a farlo le parole dell'ex premier. Insomma molto in ordine sparso dalla parte del governo e della maggioranza ma soprattutto a far male è stato al di là del risultato del voto quell'articolo del Financial Times che è la Bibbia considerata finanziaria e quotidiana per chi appunto è attento alle questioni dell'economia e della finanza in Europa un articolo che addombrava la metto giù piatta che ci fosse un conflitto di interesse per il nostro premier Conte e tutto questo è arrivato nelle ore appunto della conta e dei primi risultati umbri e ha suscitato un cortocircuito vero e proprio nel mondo politico. La vicenda mincione retelit ve lo diciamo subito è complicata come sempre quando c'è di mezzo il Vaticano e i soldi complicata o meno deve però essere chiarita perché in ballo c'è la credibilità del presidente del Consiglio Conte veniamo ai fatti nel maggio del 2018 Giuseppe Conte era uno sconosciuto professore di diritto o meglio due mesi prima Di Maio l'aveva sì presentato nella futura squadra di governo come possibile ministro della pubblica amministrazione ma nessuno avrebbe scommesso un centesimo che da lì a pochi mesi sarebbe diventato premier a maggio Conte viene chiamato per dare un parere legale a Raffaele Mincione quello che si definirebbe un finanziere d'assalto un uomo d'affari con begli agganci a cui piacciono le operazioni spericolate Mincione tramite una società che si chiama Fiber 4.0 col suo 9% vuole scalare ed avere il controllo di Rete Elite società di telecomunicazione italiana di medie dimensioni ma promettente con un buon business proiettato verso l'Asia Mincione che agisce utilizzando i milioni di un fondo lussemburghese che si chiama Atena Global Opportunities fallisce però la scalata l'avvocato Conte scrive un parere legale ipotizzando che il governo usando la Golden Power legge che serve a tutelare gli interessi statali in società strategiche avrebbe potuto annullare il voto degli azionisti avversi a Mincione passano i mesi Conte diventa Premier e il governo davvero esercita quella Golden Power va detto che in quel consiglio dei ministri Conte non solo non partecipa alla votazione ma si trova all'estero al G7 in Canada questa vicenda del parere legale a onor del vero era già nota ed è stato oggetto di interrogazioni parlamentari quello che non si sapeva e che il Financial Times oggi rivela è che il fondo Atena usato da Mincione era di proprietà del Vaticano che aveva usato i soldi dell'obolo all'insaputa del Papa non solo per quell'investimento in rettelit ma anche per una speculazione immobiliare in questo lussuoso palazzo londinese valore 129 milioni di sterline di cui la Santa Sede ha avuto notizia di recente dopo un'indagine interna alla fine della fiera tre sono le domande da farsi prima domanda Conte è stato in conflitto di interesse nella vicenda rettelit da Palazzo Chigi fanno sapere di no poiché la questione è stata affrontata dall'antitrust italiano senza che vi ravvisasse reati secondo possibile che Conte quando ha redatto il parere per Mincione non sapesse che il fondo che l'aveva ingaggiato era di proprietà del Vaticano il portavoce del premier fa sapere che sempre nelle dichiarazioni all'antitrust Conte ha ribadito di non aver mai conosciuto o avuto contatti con i vertici della società di Mincione nemmeno con lui personalmente terza domanda perché Mincione ingaggiò proprio Conte a giugno dello scorso anno la società di Mincione precisò che quello di Conte era un secondo parere dopo quello chiesto al ben più famoso studio legale Gianni Origoni e Grippo vedremo ci saranno sicuramente altri sviluppi di questa vicenda oggi però era un giorno importante per l'Europa e soprattutto per la sua moneta c'era il cambio della guardia chiamiamolo così al vertice della Banca Centrale Europea se la passano sorridenti quel tanto e non più e ci si chiede subito per chi suonerà quella campana Draghi ammette di non averla mai usata servirebbe se durante un dibattito in consiglio direttivo andasse richiamato l'ordine ma questo non è mai accaduto crederci non crederci chissà se per Christine Lagarde sarà lo stesso la lascio in buone mani dice Draghi della banca che sua è stata per otto anni la bianca signora intanto riceve l'icona luccicante del mandato sfoggiando un meganello con smeraldo anche più luccicante riti più o meno propiziatori Draghi in fondo sfoggiava solo cravate per stessa ammissione di chi prenderà il suo posto ufficialmente fra quattro giorni ha sfoggiato soprattutto saggezza e determinazione fuori a Francoforte fa freddo cielo grigio dentro suonano i violini la perfezione di una metafora la cortesia istituzionale tanta forma diventa sostanza nel saluto al banchiere che a detta di tutti ha salvato l'euro sono tutti lì o quasi leader del piccolo mondo dell'antico continente ma dalla moneta giovane tutti hanno lodato quel che la cancelliera tedesca Merkel ha definito appassionato impegno di Draghi a tutela dell'euro e dell'unione un contributo cruciale alla stabilità Macron ha auspicato un impegno corale a raccogliere l'eredità di Draghi ci ha evitato di affondare ora tocca a noi leader proseguire il suo impegno e speriamo di esserne all'altezza ha detto il presidente francese otto anni finiscono così l'omaggio è una cerimonia sobria che poi è stato lo stile di Draghi utile a nascondere la grandissima ambizione di consolidare il rapporto con l'euro Draghi ha tagliato i tassi ha certo aiutato le banche ma ha tentato di realizzare con la politica monetaria la più grande manovra economica della storia europea perché questo è stato il quantitative easing la volontà o forse l'illusione di una moneta salvatutto 2500 miliardi di euro inzuppati nel sistema se abbia davvero funzionato o no ce lo chiederemo per anni lui Draghi se ne va però togliendosi la soddisfazione di dire che ora tutti sanno che l'euro è un processo irreversibile ed è il momento di avere più Europa professor Draghi caro Mario come cittadino europeo desidero dirti grazie il saluto del presidente della repubblica Mattarella si completa in un abbraccio con super Mario l'italiano ex primo banchiere d'Europa e andiamo a vedere quello che è il day after rispetto al clamoroso blitz con cui le forze speciali americane hanno eliminato portato al suicidio di al-Baghdadi i bagliori delle esplosioni nella notte di Idlib sono i momenti decisivi del Raide che ha segnato la fine del leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi nei prossimi giorni altre immagini saranno diffuse come anticipato da Trab e come confermato poco fa dal Pentagono ma la fine dell'uomo che ha terrorizzato il mondo manovrando i suoi tagliagole non automaticamente significa la fine dell'Isis non a caso il Pentagono parla di una situazione che resta molto complessa nonostante il successo dell'operazione infatti ci sarebbe già un nuovo capo indicato ad agosto dallo stesso al-Baghdadi per guidare la sezione affari musulmani del gruppo jihadista Abdullah Kardashian un iracheno nato nella provincia di Mosul di cui si sa davvero poco tanto che per alcuni in realtà potrebbe essere già morto dal 2017 è certa comunque la sua carriera militare nell'esercito iracheno di Saddam Hussein in cui ha raggiunto il grado di ufficiale uno dei tanti soldati ex-bahatisti passato al terrorismo islamico mettendo a disposizione delle milizie di al-Baghdadi la propria esperienza militare e il contatto decisivo tra Kardashian e il futuro califo sarebbe avvenuto in un carcere statunitense nel sud dell'Iraq ma secondo molti osservatori l'ascesa di Kardashian potrebbe anche segnare l'inizio di una vera e propria lotta all'interno di quel che resta dell'Isis che ha già perso tutto il territorio gran parte dei miliziani ed ora anche il leader al-Baghdadi un uomo costretto a vivere i suoi ultimi mesi braccato nel nord della Siria cambiando continuamente nascondiglio per evitare di essere catturato o ucciso un uomo ha ripetuto questo pomeriggio a Chicago Trump malato e depravato che ora è morto stecchito e che non ha saputo morire neppure con coraggio un altro presidente avrebbe dovuto ucciderlo anni fa ha aggiunto Trump evocando presunti errori di Barack Obama e mentre molti giornali mettono in dubbio la ricostruzione fatta dalla Casa Bianca degli ultimi momenti di al-Baghdadi è il Pentagono a fornire un nuovo particolare l'arresto di due persone durante il blitz delle forze speciali Pentagono che ha confermato che i resti del terrorista sono stati dispersi in mare le nuove notizie su quella vicenda che tanto ha impressionato l'opinione pubblica quel delitto alla periferia di Roma nell'inchiesta sull'omicidio di Luca Sacchi ci sono alcuni punti fermi e tanti dubbi sulle responsabilità dei due ventunenni Valerio Delgrosso e Paolo Pirino non sembra esserci alcuna ombra il GIP nell'ordinanza che ha convalidato il fermo parla di riscontri granitici la volontà dell'omicidio scrive il giudice appare indiscutibile mercoledì scorso Delgrosso aveva con sé un'arma ha sparato a distanza ravvicinata non più di due metri ha puntato alla testa nella stessa ordinanza vengono anche riportate diverse frasi pronunciate da Delgrosso nelle ore successive all'omicidio racconti fatti ai suoi amici ai quali ha confessato quello che aveva fatto ho fatto un macello ha detto il ragazzo li volevo solo spaventare la sera dopo a tre suoi conoscenti mima il gesto dello sparo e dice non volevo ucciderlo il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire alla testa un solo colpo mortale come ha già stabilito l'autopsia poi però ci sono le tante cose che ancora non tornano e che ruotano principalmente intorno alla figura della fidanzata di Luca Sacchi Anastasia Chilemnik uno dei testimoni un amico della coppia presente mercoledì notte davanti al pub del quartiere Appio ha detto di aver visto Paolo Pirino colpire con una mazzala giovane poi Luca Sacchi intervenire e spingere a terra l'aggressore alla fine del grosso sparare a Sacchi ci sono però altri testimoni inquilini che abitano davanti al pub che sostengono di aver visto Anastasia arrivare vicino al fidanzato solo dopo lo sparo gli investigatori dovranno ascoltare tutti dall'ordinanza si viene anche a sapere che il contatto con i due finiti in cella era un amico intimo di Luca Sacchi ma il paragrafo sul presunto movente la compravendita di droga è ancora tutto da scrivere quanta droga ci fosse in ballo il ruolo di Anastasia con i suoi racconti ritenuti inattentibili quanti soldi aveva nello zaino la loro provenienza ora si aspetta che la giovane ucraina venga ascoltata dai magistrati nei giorni scorsi è stata diffusa quella notizia secondo cui ogni giorno circa 200 persone più o meno centinaia comunque di persone lanciano attraverso i social parole di odio nei confronti di Liliana Segre che come sapete è sopravvissuta all'olocausto ed è diventata senatrice a vita proprio lei ne ha parlato oggi sono quella dell'altro giorno io non odio gli odiatori io ho una grande pena per loro io non sono capace di odiare l'ho imparato non è capace di odiare questa donna di 89 anni simbolo della libertà e della storia che non può essere dimenticata la nonna Liliana Segre come ama definirsi sempre una delle ultime testimoni della Shoah che ha visto e vissuto l'orrore ma quando parla di fronte a platee sempre attente e partecipate come oggi pomeriggio all'università IUN di Milano usa solo parole garbate anche per commentare i 200 insulti e le minacce che riceve ogni giorno sui social così come denunciato dall'osservatorio sull'antisemitismo la procura di Milano già nel 2018 quando la Segre fu nominata senatrice a vita da Sergio Mattarella aveva aperto un'inchiesta si è saputo oggi contro ignoti per insulti e minacce si sente più fortunata di quei ragazzi figli dei nazisti che sputavano addosso a lei e alle altre donne denutrite senza capelli che nel fango e nella neve andavano alla fabbrica di munizioni prima li odiavo poi quando sono diventata nonna ho ripensato a loro racconta e non li odiavo più si capisce che ama i giovani vanno protetti ripete io ho 89 anni la vita mi è passata così in fretta e con così tante le cose che ancora mi interessano che vorrei fare che io invito sempre a tutti a non perdere neanche un minuto perché non si torna indietro quel tic tac che è già fatto e questi perdono dei minuti a mandare a me delle maledizioni augurandomi la morte io ho quasi 90 anni domani in senato si discuterà la proposta della Segre di una commissione anti odio e razzismo spera oderiscano in molti dice sarebbe una brutta figura non aderire a una commissione contro l'odio è l'ora del data room di Milena Gabanelli succedeva 30 anni fa e nel 1990 la Germania federale ha annesso la Germania dell'Est un paese indietro di 30 anni e per allinearlo il governo tedesco ha unificato il cambio e poi ha aumentato gli stipendi investito in sanità e costruito infrastrutture e industrie 2000 miliardi tirati fuori tassando del 5,5% tutti i redditi dei cittadini dell'Ovest e i più benestanti pagano ancora oggi e poi privatizzato 8500 imprese di Stato le proprietà dei partiti dell'esercito le case popolari e 2,4 milioni di ettari di terreni agricoli e foresti ma all'unificazione tedesca hanno contribuito capitali da tutto il mondo per 928 miliardi di euro di cui 318 dall'eurozona e 39 miliardi dall'Italia risultati all'est dall'inizio degli anni 90 il pil pro capite è aumentato del 37% la disoccupazione dal 20% è scesa al 6% e verso Ovest c'è stato un esodo di 1,9 milioni di persone la Germania è diventata così la locomotiva d'Europa i due paesi però non sono mai diventati pari il salario medio è sempre del 20% in meno rispetto ad Ovest nessuna delle 30 maggiori imprese quotate ha il suo quartier generale ad est dove invece stanno soltanto 37 delle 500 più grandi imprese tedesche in generale poca ricerca e sviluppo soltanto in Sassonia sono nate nuove imprese nell'alta tecnologia ma nel resto dell'est si sente di più la crisi dell'auto e dell'export e il processo di convergenza è fermo l'integrazione sul piano sociale culturale politico non c'è stata e qui il voto delle estreme destre supera il 25% Allora Milena buonasera questa è stretta attualità perché ieri c'è stato l'ultimo voto in Turinja dove c'è Erfurt e lì anche lì si è vista un'avanzata dell'estrema destra di Alternative for Deutschland e si sa c'è un problema ci sono una serie di problemi resta il fatto che l'integrazione l'unificazione della Germania è stato il grande fatto politico dell'ultima parte del Novecento questi sono solo effetti collaterali o c'è qualcosa all'inizio c'è qualcosa nel momento della fusione delle due Germanie così diverse che andava fatto diversamente se si può usare il senno di poi e cosa si può fare oggi forse questa è una domanda che andrebbe posta a Cole ma essendo morto forse anche a lui magari alla Merkel io non so con Danilo Taino abbiamo cercato di fare due conti 30 anni dopo esattamente quanto è costata già è stato molto complicato riuscire a capire con quanti capitali quanti capitali esteri sono finiti in Germania proprio in quel periodo e che quindi hanno contribuito in qualche modo al processo di unificazione sappiamo che c'è stata una grande che la rionificazione tedesca ha creato uno sconquasso perché c'è stata la crisi del sistema monetario europeo che stabiliva la parità valutaria fra paesi proprio per il rafforzamento del marco quindi insomma è successa una grande cosa che ha destabilizzato per quel che riguarda l'Italia sicuramente insomma in quel periodo è stata una grave crisi per noi certo è stato un avvenimento grandissimo nel quale però poi l'Europa le cancellerie europee hanno anche trattato con la Germania proprio perché il marco si era rafforzato moltissimo e in cambio proprio della sovranità monetaria hanno dato il via libera alla riunificazione e quindi le premesse poi per entrare nello smè assolutamente nella scusa nell'euro sì certo nell'euro ma del resto fu coraggiosissimo e anche dal punto di vista monetario francamente un salto fortissimo nel buio il fatto di garantire la parità tra il marco federale e l'ostmark della Germania Est della ex ormai Germania Est quello fu io credo io credo che sia stato siano state fatte veramente grandi cose il tema è puoi veramente pensare di di rendere pari due paesi con storie così diverse dove per 30 anni insomma hanno vissuto però la domanda dell'unità d'Italia che si è fatta con l'unità d'Italia quando si unificarono si è fatta con l'unità d'Italia beh quando ci sono territori penso che sia penso che sia stato più facile comunque per loro che non pensare per noi di unire di rendere così simili nonostante queste differenze che sono insomma molto significative perché non sono mai diventati pari noi siamo un paese unito però le differenze fra nord e sud Italia secondo me a mio parere sono superiori a quelle tedesche assolutamente la Germania era stata unita fino al 45 e si sa per quale motivo fu divisa in quel modo va bene sono argomenti che impattano con la storia intanto i dati sono stati molto importanti e vedere in profondità dal punto di vista numerico tutto questo è stato un eccellente lavoro se mi posso permettere grazie Milena a lunedì prossimo dopo di noi Lili Gruber ospita a 8 e mezzo Alessandra Ghisleri Massimo Giannini Andrea Scanzi e Lucia Borgonzoni ci fermiamo e infine e infine le borse Milano ha chiuso come stiamo già vedendo con un più 0,38 per cento con lo spread che è a quota 133 punti base in questo momento a Wall Street gli indici sono in ascesa più 0,53 Dow Jones più 1,07 Nasdaq è tutto Gruber ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti